Con una cerimonia sobria nel piccolo borgo di Pratella, comune noto anche per l'acqua minerale, è stata premiata Marmelara, un piccolo laboratorio artigianale che crea dolci tipici di quest'area e fa della tradizione, usando rigorosamente prodotti locali, la sua filosofia di vita. Proprio con questa motivazione è che l'Accademia Italiana della Cucina l'ha insegnita del prestigioso premio. Noi abbiamo sentito il delegato provinciale dell'Accademia Antonio Malorni e sentite che cosa ci ha detto. Allora, il ruolo dell'associazione? Non è un'associazione, è un'accademia, l'Accademia Italiana della Cucina che è un'istituzione culturale della Repubblica Italiana. Come tutte le accademie che sono istituzioni culturali della nostra Repubblica ha una finalità. L'Accademia per esempio della Crusca ha la finalità di proteggere e innovare la lingua italiana. L'Accademia Italiana della Cucina ha come finalità quella di tutelare, proteggere e innovare le tradizioni gastronomiche italiane. Siccome le tradizioni gastronomiche in Italia cambiano da regione a regione, da territorio a territorio, la nostra Accademia è organizzata territorialmente per delegazioni normalmente provinciali e perciò ci sta la delegazione di Caserta. Infine è stata poi la signora Lara Lanni a raccontarci la sua storia e come nasce questa idea che sta avendo consensi ovunque. Allora, oggi è una giornata particolare per voi, un premio importante. Sì, sì. Da quanto tempo è iniziato questa attività? Il laboratorio è nato nel 2019, aprile. 25 aprile abbiamo inaugurato. Quali sono i prodotti in particolare che voi fate? I prodotti innanzitutto derivano da una coltivazione naturale e poi la trasformazione è totalmente artigianale, quindi nel rispetto della tradizione come si faceva una volta. Siamo sempre alla ricerca di dolci antichi, magari rivisitati anche. Ci puoi fare un esempio di un paio di dolci particolari? Tipici proprio di Pratella, lo dico in dialetto, sono i panzerotti cui di ciceri, cioè i panzerotti fritti e farciti con crema di ceci e cacao all'anice. Questi sono proprio tipici del nostro paesino, forse anche di qualche paese limitrofo, ma già se ci allontaniamo di qualche chilometro, tipo Fonte Greca, magari non li conoscono proprio. Invece qui è un dolce molto molto antico. Chi li volesse acquistare? Dove può acquistarli? Sempre tramite ordinazione. Noi in bottega non abbiamo dolci, li facciamo solo su ordinazione e poi anche online ci possono chiamare perché facciamo anche delle spedizioni. Da Via Italia di Pratella è tutto, Lorenzo Applauso per casertasera.it